Mister, la sua analisi del match in casa di una squadra forte, tecnica, in forma, il Verona ha lottato per tutti i 90 minuti. Cosa è stato fatto bene e cosa invece doveva essere fatto meglio? Hai detto molto perché abbiamo giocato contro una squadra forte, squadra che comunque è entrata in campo cattiva, ha fatto una partita vera, sbagliando poco o niente. La differenza è lì perché comunque anche noi abbiamo fatto secondo me bene. Difensivamente abbiamo tolto tanto spazio al loro di gioco, basta vedere anche nei numeri i tiri in porta. Abbiamo fatto tre tiri noi, tre tiri loro. È stata una partita dove c'è stata molta aggressione in mezzo al campo da tutte le parti. Loro chiaramente hanno trovato due gol su due situazioni un pochettino. Il primo, così sarebbe anche da rivedere, il secondo è un fano laterale, tra l'altro una palla nostra che mettiamo fuori e dovevamo gestirla assolutamente meglio. Noi abbiamo avuto due occasioni importanti, nitide, non l'abbiamo messa dentro. Un po' la partita sta anche lì dentro perché abbiamo avuto più supremazia territoriale. Però questi sono tutti numeri che non contano, c'è una sconfitta che comunque io dico sempre bisogna costruire anche sulle sconfitte. La squadra comunque ha fatto una buona prestazione e anche in preparazione delle prossime gare credo che oggi sicuramente abbiamo commesso degli errori, però ci portiamo fuori anche qualcosa di importante.